come guadagnare shiba in un 2022 gratis in questo video ragazzi parlerò soprattutto dei metodi di guadagno ok dove dopo che abbiamo fatto i vari passaggi comunque dove andiamo a ricevere del denaro gratuitamente ragazzi mi raccomando perché è tutto gratuito poi ovviamente possiamo andare a prelevare e quindi in questo caso possiamo fare quello che vogliamo ok però nel video di oggi la strategia è come andare a guadagnare shiba in un gratuitamente mi raccomando ragazzi guardate questo video fino alla fine perché comunque se farete tutti questi passaggi ci sarà un bel gruzzoletto da parte ok detto questo mi raccomando iscrivetevi soprattutto al canale telegram ufficiale di top coin italia perché è lì che ho pubblicato diversi metodi di guadagno e quindi in questo caso ragazzi comunque se avete visto il mio gruppo telegram ovviamente già sapete tutti questi metodi ma se non l'avete comunque se non siete dentro questo è il momento giusto per voi iniziamo ma prima di parlare comunque dei vari metodi vi invito a iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi ulteriori contenuti del genere mi raccomando ragazzi fatelo in molti il primo metodo odierno in questo caso è di buddy bank ok vediamo che c'è il nome run buddy run solo dal 15 luglio fino al 4 di agosto comunque anche di più ragazzi lasciate stare perché comunque quando fanno queste promozioni ovviamente poi continuano anche dopo è capitato pure a me che ho ricevuto veramente bonus a perdere dopo che è finita la promozione ok quindi in questo caso solo dal 15 al 4 agosto 2022 potete ottenere fino a 250 euro di bonus sul conto di buddy bank ok allora come si fa a ricevere questo bonus io vi lascio il link sotto in descrizione ok noi riceviamo 25 euro di bonus più 25 di bonus per ogni amico invitato quindi voi che andrete a fare il conto buddy bank riceverete comunque 25 euro ok basta registrarsi e inserire il codice promo poi attendere verificare i documenti ed effettuare una transazione da 10 euro oppure acquista un buono amazon quindi in questo caso dovete caricare 10 euro e poi andrete a ricevere praticamente altri 15 euro quindi 25 totali e ovviamente sono 25 di guadagno belli belli puliti ok e in questo caso ragazzi comunque vi lascio il link sotto in descrizione quello che vi consiglio è di comprare o un bonus amazon che comunque può sempre servire perché lo lasciate lì ci sta quando dovete andare ad acquistare qualcosa se no potete provare a comunque depositare del denaro su binance ok quindi voi dovete passare dei soldi prima su buddy bank e poi da buddy bank dovete andare ad acquistare l'altra roba ok ragazzi quindi il primo metodo dove andiamo a ricevere praticamente 25 euro più 25 se andiamo a completare invece tutta questa promo 250 euro puliti seconda applicazione odierna in questo caso stiamo parlando di trade republic in questo caso sono 10 euro di bonus ma comunque quello che dovete fare è registrarvi tramite il link sotto in descrizione poi andare ovviamente a verificare i documenti tutto gratuito e dovete andare ad acquistare comunque un'azione ok in questo caso un'azione sarebbe ve la dico perché diciamo che comunque le azioni in questo caso sono costose perché stiamo parlando comunque di azioni importanti come tesla apple e via dicendo ma ma se andiamo ad acquistare tuniu che il suo valore è di 1 0 9 5 quindi 1 euro e 9 centesimi e la andiamo a holdare riceviamo 10 euro di bonus e sono subito prelevabili ok ragazzi quindi questo metodo poi ovviamente se andate a invitare altre 5 persone comunque si possono fare 50 barra 60 euro easy ulteriore promozione che ci può regalare fino a 100 euro a persona avete sentito bene 100 euro a persona in questo caso è trading 212 vi lascio anche di esso il link sotto in descrizione basta cliccare tramite il link ovviamente sotto in descrizione compilare il forum iniziale con i dati richiesti va bene qualsiasi documento poi mentre andiamo avanti comunque dobbiamo selezionare trading 212 invest mi raccomando depositare 10 euro andare soprattutto nel codice praticamente le impostazioni e il codice referral e inserirlo perché se no non riceverete la vostra azione e a questo caso poi vi sarà debitata un'azione da un valore massimo di 100 euro e poi potete prelevarla quindi veramente altri soldi easy 100 euro comunque in questo caso sarebbero praticamente regalati e ogni volta che andrete a invitare una persona comunque quella persona riceverà lo stesso bonus e voi riceverete sempre lo stesso bonus quindi non finisce qui ok ragazzi mi raccomando questo è anche un ottimo metodo di guadagno ora c'è street beat veramente un'ottima piattaforma è un conto di investimento dove possiamo andare a ricevere 3000 dollari a persona massimo ok quindi io vi dico comunque che ho fatto un bel gruzzoletto di soldi con street beat e in questo caso non c'è nemmeno il deposito ok quindi basta registrarsi tramite il link che lascio sotto in descrizione ovviamente non depositare il bonus poi praticamente prelevabile dopo 14 giorni puoi invitare comunque un amico e ricevere comunque lo stesso un ulteriore bonus e quindi in questo caso tentate la sorte perché comunque è tutto gratuito basta solamente registrarsi e verificare i documenti mi raccomando ragazzi fatelo perché è un'ottima opportunità di andare a guadagnare senza investimento ok mi raccomando andiamo e passiamo nell'ultima piattaforma barra exchange barra broker importante in questo caso stiamo parlando comunque di beat panda in questo caso io ho veramente fatto tanti soldi comunque con il fattore referral ok vedete comunque che ho portato praticamente tante persone poi sono andato a prelevare e in questo caso è ottimo perché soprattutto andiamo a guadagnare 10 euro a bonus ma come si fa andare a ricevere questo bonus ora ve lo dico basta praticamente registrare e verificarsi ovviamente su beat panda vi ripeto che comunque è un wallet che offre 10 di bonus registrazione dopo aver svolto alcuni esempi di step e ovviamente il deposito deve essere comunque di 30 dollari o 30 euro perché comunque poi saranno ripeto prelevabili poi effettuare un acquisto di 25 euro in bitcoin o stable coin per ricevere il bonus si possono comunque andare a rivendere subito e poi si può andare praticamente a invitare un amico a ricevere 10 euro bonus quindi in questo caso più amici invitate più ovviamente andrete a guadagnare quindi diciamo che comunque in questo caso ho portato un metodo di come andare a guadagnare bene o male 1000 euro ok e poi andare a convertirli in shiba inu ovviamente volete anche prelevarli senza andare ad acquistare comunque shiba ma questo è un metodo che comunque è un video che volevo fare da tanto tempo ok così almeno voglio istruirvi per quanto riguarda comunque il guadagno ok perché comunque può sempre fruttare e continuare a generare denaro e quindi in questo caso ragazzi mi raccomando vi lascio tutti i link sotto in descrizione ok detto questo ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi ulteriori contenuti del genere noi ci vediamo domani con un prossimo video ciao e a presto